Ciò che rende il poeta in certo modo unico nei circoli della poesia contemporanea è il suo desiderio e la sua facoltà di porsi al di là di voghe e mode transitorie. Non solo la sua poesia riflette temi storici e nostalgia nel senso migliore del termine, ma il nostro ha fatto di tutto per raccogliere e offrire informazioni sui poeti canadesi che hanno lasciato il segno nella cultura letteraria del paese.